Ritornerai, lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me... Sicuramente la prima volta lo vedo su grande schermo, perché anche ai tempi, quando uscì nel 1983, ben 36-35 anni fa, ti rendi conto? È full, capisci? Non l'ho visto al cinema, perciò poi l'ho visto, ovviamente, qualche volta in televisione questo è normale, però così su grande schermo mi ha fatto una grande emozione, forse anche pure un po' di impressione, perché vedi quello che 35 anni fanno su di te. Il bello di questo film io credo sia la nostalgia e la commozione che provoca ai tempi nel 1983, quando uscì, perché comunque aveva la nostalgia di quegli anni nei quali è ambientato, gli anni 60, ora c'è una doppia nostalgia, perché vedendolo hai nostalgia degli anni 80, quando è stato girato, degli anni 60. Ovviamente mi sono emozionato, ho avuto dei ricordi molto forti, ma poi specialmente rivedendo Eleonora, noi che è stata mia moglie, la mamma di mio figlio Paolo, e ho rivissuto quei momenti, noi ci siamo conosciuti nella famosa scena pizza fredda e pizza calda, quella è la prima volta che ho incontrato Eleonora, e insomma ha fatto un po' emozione rivederla così in quei posti. Grazie.